Prima sto bene, la voglia è sempre, anche quando siamo in una situazione più comoda che adesso, però il calcio è così, secondo me non debiamo lamentare troppo, perché l'unica cosa che aiuta adesso è lavorare sul campo, lavorare sull'allenamento, migliorare le cose al campo, non tutto è male, facciamo anche cose molto bene, però possiamo dare di più. La voglia per segnare è sempre, quella è la mia caratteristica di calcio, segnare, per quello sicuro è difficile. Dopo un tempo lungo così, però non è che ho giocato un anno e non ho insegnato, ho avuto un tempo che non ho giocato tanto e non si torna e fa subito le stesse cose come prima, deve cercare trovare il ritmo e per quello adesso sono io, siamo a un punto che non, tutto è detto, non debiamo parlare troppo perché mancano tanti punti, mancano goli, mancano cose che possiamo fare al campo, però queste cose si deve migliorare al campo quando abbiamo l'allenamento. Non lo posso dire in percentuale perché già l'ho detto nei ultimi dieci minuti che per me è importante di avere la sicurezza al campo, nelle movimenti, nelle situazioni, questi arrivano con le partite e sicuro con il success, con le vittorie. Questo non conta solo per me, conta per tutta la squadra.